eh questa è la mia pizza andando andando sto volandolo eh questa volta deve dire sto volando volevo ruocare 3 2 1 buongiorno buongiorno ragazzi e ragazzi oggi siamo ritornate qui con il nuovissimo video questo video si tratta di un video molto 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 carino allora prima di tutto vi voglio dire prima di iniziare che se volete entrare alla parte della foto per il video ma quando hai il risultato scrivete rosso cliccarlo vado a diventare grigio attivate la campanella quando attivate la campanella tra le opzioni scegliete tutte così vi arriveranno tutte le notifiche allora allora questo è il video gambivuester reale e ricordate le nostre gambivuester con la ruota quindi oggi andremo a fare qualcosa facciamo qualcosa particolare sono scoperti esatto quindi ora facciamo sesso carta forbici sesso carta sesso carta sesso carta forbici allora cominciamo la prima manche allora cacciamo il piatto uuuuuh non non puoi toccare la regola è la regola è che in pratica non devi mangiare il piatto di nuovo esatto vai parti ti prego ti prego GUMMI 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 quindi a me raga mi tocca mangiare il panino un panino che non mi gli stiace però mi sarebbe da assoluto un po' di più Andiamo Matteo Buono raga, non ti parla con la bocca per il palano Non so cosa abbia detto però Buonissimo, l'ho rivalutato? Sembra che ha detto purcedo Forse vuole fare un cambio, vedi, ti lo vuoi Non te lo voglio dare Allora raga, io levo l'insalata perché mi piace Non puoi toglierla, sei squalificata, uno giugno, sei romarchi allora No, 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 scusa Io ho vinto, no, ho vinto, ho vinto Non mi ricordo, io non mi ricordo, chi prende il cambio e chi prende il reato Si vince Buono, non vince a nessuno Come? Come? È un gioco scemo Il gioco vuole farsi più piccioli Raga, vero, c'è un gioco veramente del San Enzo Sento, devi fare la sfida Però è divertente, e si mangia quindi è buono Prossima maniera Non è successo, mamma non è successo niente, vai un altro po' di roba Allora ragazze, la sporadola Allora, nel nostro bellissimo secondo mouche abbiamo una bellissima Coca-Cola È spesa ed è buonissima quando la prende E tu non mi dai la Coca-Cola Io ti faccio male Io ti scaslagava Raga, ovviamente, giù nei commenti voi scrivete che noi ci prendiamo in giro Non è così, noi cerchiamo solamente di farvi divertire e ci divertiamo anche noi Lo facciamo anche fuori dalla telecamera, sempre Quindi ora tocco a me, caro Si è chiaro In quel piatto che c'è, fammi vedere un po' Le Coca-Cola Le Coca-Cola Non si vedono, non si vedono, non si vedono Non si vedono, non si vedono Non si vedono, guarda, non si vedono Vabbè dai, ci fidiamo Si, si, fidatevi Vedi, ok Io non le so fare che cosa vuole Allora, chi gira la ruota? Io, ahahahah, wow Io spero che mi capi di real Attenzi, mica c'ha gli occhiali da qualche parte, no? No, questo dopo lo vado a prendere, mi piace dell'idea E' uscito, è uscito, è uscito, è uscito da me, ovvio Cos'è uscito? RELLA COCA-COLA Tieniti queste robe Io, ahahah, abbiamo uscitatevo, c'è ma' una Pepsi, vabbè raga, io faccio così Comunque è la Pepsi questa, ed è buonissima E' tanto il mio naso, sta cosa Hai namuto識 i panini, caramella Non perderei mai la mia Coca-Cola per... Aspetta... No, fate molte bottonde. Dove vai? Non puoi, vieni squalificata. No, vieni squalificata. No, non puoi, grazie, Massimo Renato, guarda che nella mancia successiva utilizzerai i tuoi occhiali dell'incazzatrice. Buona, raga. Buona la coca. Tieni, vado a avere tutte, direi a tutte le coca-cole del mondo. Vado a fare anche le coca-cole, grazie. Ma quindi preferivate tutte e due la Pepsi? Io sì, e ho vinto anche Yeea. Ma a me è riuscito a rea, cioè a me. Terza, MASH. Sì, vabbè, vi vogliamo insieme come un bel giuntra volta, se la nostra storia inizia a congelare, convolgere una bosca che male c'è, se mi viene a cercare. Ora mi verrà il torcivolo. Vabbè, so qua a me. Allora, qui ci sono le... la frutta. A me non è che mi piace tanto la banana, ma mi piace. Però ti avviso, ci sarà una bellissima sorpresina per te. Molto bella. Per me? Sì. Bene. Tu che vorresti, giuro, che vorresti? Ah, dammi. Vediamo un po'. Non toccare. No! No! Ah, ho. Ah, ho. Ah, ho, ha. Ah, ha, ha. Ho, ha, ha. Che succede? Ah, mi per la banana mi piaceva. Se vuoi fare uno scandale io ti dovo. Allora, tu pensi. Per la sorpresa. M�, sei brutta. Allora, se i PALLONE che sei MENCHE, sto a VEELLIÀ… Muorm booking, $UUUM, $&$ 1,$% mi tocca mangiare questa schifezza però le pannone fanno bene mangiatele sempre, i pietri a me non mi piacciono dai magari ti offre uno scambio non possiamo salone di pesca dai raga io mangio tutto basta che sia maturo vabbè raga io non posso vabbè raga prima che Giulia vomiti andiamo all'acqua al quarto round ti prego e volando 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 e questo momento dove si sto volando per la pizza no io voglio questa pure io voglio questa ma vabbè però questa è un bel appello chi gira la ruota lei lei sempre lei cioè allora azzurlare se stavo stavolta oddio gammie gammie è ma basta è ma basta senti mettiamoci d'accordo con le cose posso hai fatto male ne giro la ruota io balla cioè raga c'è si sto mandando la mia pizza c'è la mia pizza però questo è un odore invitabile però questa è mia mia pizza no 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 vabbè tagli giù di uscire per fare qualcosa ora vediamo manda la pizza è fantastica che gusto è margherita? no no è zucchero no non so dire la mente io non ho mai capito il gusto delle caramelle ora mangio dal buco guardate ma come fai? e dai romini la pizza pizza ciambella fammi vedere ciambe il pizza fammi vedere fammi vedere questa la chiameremo pizza Giulia pizza Margherita pizza Giulia è buona 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 ma intanto io ho la pizza è diventato un medico è diventato un medico bella io dobbiamo fare una bella medica bella 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 allora questa pizza veramente dà l'odore non è per niente evitante no sa di zucchero schifo di nuovo no dai c'è un'altra cosa che è meglio mentre quando sei al tavolo ti scordi pure di tua sorella ok però permetti di scordare la magic family io ti faccio pezzetti ti puoi scordare la vita ma non la magic family tu chi sei? perché conosci la mia famiglia? eh? come ti permetti? bella quella è la mia famiglia si sei? tu sei tutta sorella veramente ma però che raga grazie a mi ti piace ti piace allora io Giulia la duro raga io Giulia la duro ma è così sporca perché all'improvviso all'improvviso mi mi roma mi spazio tutti i pavori tutti i pavori si e allora mi dovete riprodurre la guaccia però io poi gli insegno Giulia la duro non ci siano tutti i pavori ma ci siano così no aspetta non copri ma io ti prego ti prego ti prego ti piace? allora raga per farci capire che vi abbiamo strappato un piccolo sorriso facciamo raggiungere questo video a 10.000 like per in tre giorni per un nuovissimo video cammi vuoi essere real o generico si e Giulia indosserà per tutto il video questi occhiali quindi io me ne dovrò vedere delle buste però vedremo se si potrà fare anche qualche piccolo allora comunque poi raga vi volevo dire che a volte giù nei commenti scrivete Marghe e Giulia vi prendete solo in giro siete sorelle brutte cosa è vero? brutte si sei guardato tu sorelle cattive e cose del genere ma in realtà noi lo facciamo per farvi divertire a voi e poi noi ci divertiamo proprio così perché cioè ci prendiamo in giro ma allo stesso tempo ci amiamo e lo facciamo anche fuori dalla telecamera quindi ok però se volete un video che io faccio un incazzatore personalizzato per rispondere a tutti gli acer sono solamente bate ehm arriviamo a 10.000 like in questo video allora quindi 3 2 1 quindi ragazzi questo era il video spero vi sia piaciuto a noi è piaciuto tantissimi iscriviti da instagram Marghe e Giulia Kawaii il prossimo passo official su Facebook Marghe e Giulia Kawaii real sul secondo canale Maggi TV subito su TikTok Marghe e Giulia Kawaii e se volete le maglie le cover tantissimi altri colori andate su www.margigiulia.cawaii.it vi ricordo che io Marghe io Giulia insieme a voi sono una magic fan eppure lasciate like commentate e iscrivetevi al canale se lo dà per tutto se non è questo shhhh 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 shhh